E' un'ora che questo capannone sta bruciando, si parla anche di feriti, è una cosa impressionante. Guardate qua, sempre qui a Malagrotta, Malagrotta signor sindaco, eccola, siamo abituati ai fuochi, vergognati, 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 eccolo quello che sai fare tu, vergognati, vergognati, tanto ha detto che dobbiamo morire, moriremo, questo è l'inizio, vergognati, le colpe sono solo tue, solo tue, qui ci sono tanti pezzi di terreni che sono del comune, sono stati abbandonati, sono stati dimenticati, non l'hanno puliti, eccolo quello che è successo, eccolo quello che è successo, le zone O, le zone O signor sindaco, l'hai fatti, i terreni che ti sei preso ai cittadini, l'hai abbandonati, prima il cittadino se lo puliva il terreno, adesso i terreni suoi già creano sti problemi, hanno evacuato, hanno evacuato le viscine, purtroppo la situazione è drammatica, già sono due ore e mezza che brucia.